La regione Marche scalda i motori in vista della BIT. Oggi nel parlamentino di Ancona sono stati illustrati formula dello stand e della proposta che le Marche porteranno alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà alla Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio. Obiettivi illustrati da Marco Bruschini, direttore dell'ATIM, ovvero la neonata agenzia regionale per il turismo e la internazionalizzazione. Cercheremo di dare un'immagine che sia coordinata con le grandi potenzialità turistiche e il grande protagonismo che devono avere le Marche in questo settore. Sarà uno stand completamente nuovo, uno stand che avrà due punti focali. Una parte dove c'è un soppalco, in questo soppalco faremo le degustazioni fatte dagli chef stellati, sotto ci sarà un'area espositiva che poi sveleremo che cosa metteremo, poi dalla parte opposta avremo l'area talk. La cosa molto bella dell'area talk è questo grandissimo video che viene messo dietro, 5 metri e mezzo per 3, quindi avremo 16,5 metri quadri dove potremmo proiettare tutti quanti i filmati promozionali delle Marche per far sì che tutto quello che c'è a livello di eccellenza possa essere visto da tutti quanti i visitatori della BIT. Alla conferenza di oggi hanno partecipato anche gli chef stellati marchigiani con una stella Michelin che saranno partner dell'iniziativa di lunedì 13 febbraio nello spazio dello stand a loro dedicato, chiamato Firmamento Stellato. Saranno impegnati in uno show cooking in collaborazione con gli studenti degli istituti alberghieri delle Marche. Chef che oggi hanno rimarcato l'impegno della regione a dare risalto a questo settore strategico con un fine ben chiaro, valorizzare non solo in Italia ma soprattutto all'estero i prodotti eccellenti e la qualità del territorio. Chef che hanno anche presentato i piatti che proporranno alla BIT in un connubio tra tradizione e innovazione. È un programma intenso dove si coinvolgono i territori, le eccellenze, i distretti per presentarci ai mercati turistici internazionali cercando di accrescere la programmazione e dall'altra parte anche la promozione del nostro territorio. È rappresentato l'obiettivo da rafforzare la presenza degli stranieri e degli italiani, di tutti coloro che possono apprezzare le nostre bellezze, le nostre eccellenze, il lusso ma anche il paesaggio, l'anogastronomia e tutte le altre opportunità che nella regione si possono vivere. Turismo straniero che avrà dei target di nazionalità ben precisi. Sicuramente Germania, Austria e Svizzera ma soprattutto stiamo legando molto i flussi turistici che verranno nelle marche ai voli perché il prodotto c'è. Avremo anche una buona promozione e quindi ci andremo a presentare nei mercati internazionali ma se non abbiamo i voli non abbiamo le gambe della promozione. Quindi questa grande attività insieme all'aeroporto e al porto ha portato già il nuovo volo su Parigi. stiamo studiando dei voli sulla Germania e stiamo studiando anche una forte espansione anche del porto. Quindi tutto questo farà sì che il nostro obiettivo principale sarà quello di passare dal 20% che vengono dal resto del mondo, quindi fatto 100, 80% turisti vengono dal territorio nazionale e 20% dal resto del mondo, riuscire ad arrivare almeno al 40% perché le marche hanno tutte le caratteristiche per potersi imporre nei mercati internazionali.